Buongiorno a tutti, inizia la mia giornata di pesca. Oggi proviamo a prendere il pedalò e proviamo a pescare dal pedalò. Ciao, sono Cristian di Milano e vi porto nel fantastico mondo della pesca. Allora, aspettate che io inizio a mettere a posto una calda. È bellissimo. Allora, aspettate che io inizio a mettere a posto una calda. Allora, aspettate che io inizio a mettere a posto una calda. Proviamo ad andare verso riva perché qua non si pesca niente. Ragazzi, mi arrendo. Qua non si pesca nulla, perciò ho chiuso le canne e adesso mi godo il pedalò facendo un giro. A tutta via! Allora! 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 Allora!